Ho provato una particolare emozione nel partecipare a questa intensa giornata italiano-rumena dopo 13 anni dall'ultimo vertice intergovernativo tra i nostri due paesi. Un lasso di tempo che ha visto un profondo e inaspettato cambiamento del contesto geopolitico mondiale oltre che una crescita straordinaria della Romania. Abbiamo anche usufruito di una postazione di rilievo all'interno di questo forum in quanto, come Presidente di Confindustria Romania, ho potuto presenziare ai lavori del prestigioso tavolo della Sala Conferenze Internazionali. Gli organizzatori del forum, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia ICE e l'Ambasciata di Romania a Roma, in funzione anche del nostro consolidato ruolo da interlocutore economico di riferimento nel paese, ci hanno anche messo a disposizione un desk esclusivo di accoglienza per ricevere aziende e istituzioni sul modello dei desk a Romania che abbiamo già operativi presso alcune delle principali confindustria italiane. Nel corso di questa importante giornata ho potuto approfondire con aziende e istituzioni alcuni aspetti fondamentali per il paese, oltre alle infrastrutture ampiamente dibattuto, la stabilità energetica di lungo periodo della Romania, che è una garanzia di sicurezza per l'industria. Uno dei temi più importanti è stata la digitalizzazione. In questa transizione digitale, Confindustria e Romania, attraverso il gruppo tecnico Digital Innovation, svolge un ruolo importante come contributore alla Romania, nelle tecnologie avanzate nella costruzione e nella gestione degli edifici, nell'automazione industriale e robotica per l'industria manifatturiera, nella creazione di ecosistemi di innovazione, fornendo poi programmi di incubazione per start-up e imprenditori. Un altro tema importantissimo è l'agroindustria, citando le missioni congiunte in Italia di Confindustria e Romania e del Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rolale Rumeno, su tre linee principali, la ristrutturazione delle piccole e medie imprese, la modernamento dei sistemi di irrigazione e lo sviluppo di un'industria di trasformazione delle materie prime agricole. Grazie. Grazie. Grazie.